E allora è partita la gara Ed è l'atleta dei patinatori di Spinea che si porta al comando Si tratta di Davide Menegaldo Ora Mulai in prima posizione Poi Monchiero Ma ora dalla curva escono fuori due atleti della polisportiva di Bellusco Ed eccoci al suono della campana E allora per molti giri la gara si farà dietro Andiamo a vedere chi saranno gli atleti eliminati Via via il gruppo si andrà assortigliando E alla fine quando ne resteranno sei poi saranno tre eliminazioni di fila e giro finale 3-9-9 Bianchi 151 Michelacci Fermarsi Ancora in testa l'atleta dei patinatori di Spinea Si tratta di Davide Menegaldo 3-0-3 Ammonito Cassalino Ammonito C'è la scuola di Spinea Un'altra scuola di Spinea Un'altra scuola di Spinea 198-198 E' 192 Fermarsi Borges e Pichera fermarsi, numero 100 ammonito, eliminazione, doppia eliminazione, 230 e 128 quindi Cursi e Agis intanto c'è stato ancora il suono della campana con ancora Menegaldo in testa al gruppo ma andiamo a vedere la coda ancora doppia eliminazione 3-8-6 Colucci 1-6-1 Pesana Campana di meno 40 Senior Femmine all'appello Senior Femmine all'appello ora si è portato in testa Angelini l'atleta del Rollin ma ripassa subito davanti Bellusco 3-9-4 4-3-1 dobbiamo fermarsi sono Campagnaro e Rodrigo Segherero che si fermano e intanto c'è stata la campana di meno 38 con il body di Sinea in testa al gruppo doppia eliminazione 129 Silvestri e 2-6-1 Pescianti Campana il gruppo ancora tirato dagli atleti della polisportiva di Bellusco ora si è portato un Laiardit a interrompere il trenino del Bellusco anche l'atleta del Lampin Line doppia eliminazione 125 e numero 100 Paglietta e Merra fermarsi Alba Campana di meno 34 ritmo velocissimo per questa gara questa è l'ultima doppia eliminazione con Menegaldo Molai Ghiotto nelle prime posizioni di Paula 104 3-8 e 104 e intanto Campana ora eliminazione singola con il body del Cassano Galeazzo se l'ha portato in testa eliminazione numero 6-2 Bergamaschi ancora Menegaldo ora in testa la coppia del dei patinatori di Stinea Menegaldo è incobbato poi Cassalino ed ecco già l'eliminazione top 42 4-2 Zazzarini 142 Zazzarini si rialza intanto ancora c'è stata Campana di meno 27 siamo quasi a metà gara eliminazione 111 Stocco 1-1-1 e intanto è Munai in testa al gruppo seguito da Bossi Frigo anzi no è il 188 quindi è Balini ma ora Ghiotto si è portato in testa al gruppo 3-7-6 Carraro Ghiotto Ghiotto Ammonito 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 11-1-4 Hello and tasty cabinet Ora si porta a Canazza, esce dalla pancia del gruppo l'atleta dell'HP, Parola, al passaggio eliminazione di meno 21, 210, si piglia, è l'atleta che deve rialzarsi con Canazza. Si è portato ora davanti nelle prime posizioni del gruppo, insieme a Moulay Arditte, ora Gobbato si è portato in tazzino e Menegaldo, Menegaldo, Moulay, eliminazione numero 88. 8, 8, 8, Scestarelli, intanto il gruppo si assottiglia sempre di più al passaggio, campana di meno 18. Ed è ora che Piotto che va a rilanciare l'azione in testa al gruppo, crea un buco, poi si rialza. Andiamo a vedere l'eliminazione di meno 17, numero 113, Morelli. Ora Menegaldo, Moulay, Ghiotto, Bossi, Baleni, campana di meno 16. 137, Montiero, ha morito. E andiamo a vedere l'eliminazione di meno 15. 51, Frigo. E intanto la velocità è sempre molto sostenuta, una gara velocissima. Eccoli al passaggio di meno 14, con il numero 303, Castanino, in testa al gruppo. Si cercano posizioni lì, si cerca spazio per passare. Andiamo a vedere l'eliminazione di meno 13. 194, Bombicino. Per scorrettezze. E intanto c'è stata la campana di meno 12. ed è Moulay Ardit in testa al gruppo. Sono nove. Ne dobbiamo eliminare ancora sei. 8-4, Angelini. Al passaggio campana di meno 10, con Canazza che cerca posizioni in testa ma viene chiuso. Ed è Ghiotto che si porta in testa seguito dai tre atleti. Due atleti della Polisportiva di Bellusco, una Moulay Ardit in testa al gruppo. Eliminazione di meno 9. 94, Canazza. E allora abbiamo ora in testa al gruppo. Monchiero, poi Moulay, poi Menegaldo, poi Ghiotto. Si porta nelle prime posizioni anche Balini. E intanto c'è stata la campana di meno 8. Siamo all'eliminazione di meno 7. Andiamo a vedere la coda del gruppo. Come si lanciano per salvare l'eliminazione. 3-0-3. Fermarsi. E il gruppo si assottiglia sempre di più. Siamo a meno 6. Campana. Si stacca un atleta dei impattinatori di Stinea. che ora si lancia ma è 3-9-3. Coppato. L'atleta che deve rialzarsi ha tentato di lanciarsi per salvare questo giro. E intanto siamo alla campana di meno 4. Ora sono sempre eliminazioni di meno 3. Meno 2. Meno 1. E poi sarà volata con tutti i tre atleti. Ed è Monchiero. Burrai. Nelle prime posizioni. Eliminazione di meno 3. 2-0-3. 2-0-3. Menegaldo. Deve rialzarsi. Ed è Monchiero. Poi Monchiero. Poi Malini e Bossi. Eliminazione. 1-3-7. Monchiero. Deve rialzarsi. Ora in testa al gruppo Monchiero. All'esterno. Il body della polisportiva di Berlusco. Rimasti in 3. che vanno a fare la volata dell'ultimo giro. Viene eliminato il 188. E intanto il testa al gruppo. Si è portato. Bossi. Bossi. Non è un ragazzo. Che avrei chiamato. Bossi. 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 Bravo! Grazie.